Il Cineteatro Rocco Gentile di Città Nova torna a vivere dopo sette lunghi anni dalla sua chiusura per ristrutturazione, almeno secondo quanto si legge sull'albo pretorio comunale, dove con la delibera 129 del 22 settembre scorso la Giunta, guidata dal sindaco Francesco Cosentino, ha approvato il progetto culturale per la nuova struttura. La direzione artistica del Cineteatro è stata affidata al regista regino Fabio Mollo, che fa parte dell'associazione Reggio Cinema. L'associazione, almeno a quanto si legge, provvederà all'organizzazione degli eventi, mentre il Comune, senza riflessi sul bilancio, curerà i supporti logistici e darà disponibilità del Cineteatro Cittadino al fine del suo rilancio. Decisamente ambizioso il progetto denominato Fabrica Lab, affidato alla direzione artistica del regista Mollo. Sono previsti diversi spazi a partire dal cinema, con la programmazione dei film in uscita nelle sale nazionali, le anteprime, le rassegne, le retrospettive, gli incontri con i personaggi che hanno segnato la storia del cinema. È previsto anche un film festival in autunno, che verrà strutturato in dieci giorni con la programmazione di film in concorso, laboratori, ospiti e forum. Per lo sviluppo delle arti visive, per la produzione artistica, la proposta è quella di istituire una scuola di formazione cinematografica con docenti di rilievo al fine di far decollare il Cineteatro. Uno spazio verrà riservato anche ai bambini, agli adolescenti e agli anziani, con dei corsi pomeridiani di educazione all'immagine per nuove e vecchie generazioni. Altri spazi verranno dedicati alla musica, promuovendo artisti locali, proposte nazionali e alle mostre con l'intento di permettere agli studenti di esporre i loro lavori. Una web tv ed uno spazio bistrò di prodotti a chilometro zero completeranno il progetto che si aprirà anche alla collaborazione delle associazioni del territorio. La Giunta Comunale, nel motivare l'approvazione, ha evidenziato che la natura dei servizi e le prestazioni costituiscono un'opportunità di aggregazione sociale e di realizzazione di progetti socioculturali che favoriscono la creazione di una rete di interventi integrati tra le varie realtà del territorio.